sale sale non fa male dico no ma sale sale ma è questa ansia sta iniziando ad uccidermi prima di cominciare una puntualizzazione anzi prima di cominciare ovviamente passate qui sotto in descrizione e scaricate one football che è lo sponsor di questo canale e ovviamente la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio seconda cosa questo video non doveva esistere al posto di questo dovevo fare qualcosa insieme a michael righini ma per una cosa e per un'altra mi ha paccato ma ha deciso di mandarmi questo video che vi mostrerò a brevissimo per giustificarsi e per scusarsi quindi dopo un video del genere non posso fare altro che che perdonare il buon mike vi proporremo una collaborazione in futuro ecco qua la clip di cui vi sto parlando allora veramente guarda la faccia dai no uno schifo non ti ho neanche risposto non ti ho cagato da mille ore scusa scusa allora siamo andati a letto alle 7 e 40 e ci siamo svegliati alle 11 e un quarto per fare le riprese fino adesso si cena e ne avremo fino alle due per poi domani alle 7 ripartire non è uno dice che cazzo me ne frega no però è giusto per dire che non c'era proprio modo zero proprio di poter fare questo video scappava la cacca neanche l'ho fatto vabbè intanto ti saluta matt e anche tutti quelli qui del cast a luca delle riprese come vedi siamo tutti molto molto energici abbiamo dormito riposato questo fondamentalmente un video di scuse di merda e allora mi sono detto che cosa posso fare domenica mattina la domenica mattina di inter juve la domenica mattina di inter juve intanto sto cercando di sopravvivere sto provando a non morire di ansia perché sto veramente questa parte del cuore che sta facendo male ieri sera stavo tornando da ferrara con la mia ragazza è in macchina a un certo punto le ho detto sto male e le mi ha detto cosa succede vuoi fermarti c'è la strada stiamo guidando no no fermati che sa mai che hai un malore e le ho detto no no sto male perché ho l'ansia e mi guarda le fa ma da cosa ho l'ansia da inter juventus ma vaffanculo deficiente no non me l'ha detto ma sicuramente l'avrà pensato ma guarda sto coglione e con me il sabato sera e pensa alla partita l'ansia della partita però chi non vive il calcio certe cose non le può capire anche mio papà stamattina è arrivato mi guarda mi fa come stai ti sei svegliato con gli ho detto guarda mi sono svegliato un po' di fretta ho dovuto fare due robe non ce l'ho ancora ieri sera ce l'avevo mi tornerà eccola è tornata c'è quest'ansia di inter capolista inter che ha fatto sei su sei inter che vuole strappare lo scudetto da juventus s'inter allenata da antonio conte antonio conte che non solo è stato capitano storico della juve ma è stato quello che ci ha riportato lo scudetto che ha aperto questo ciclo magico di otto scudetti consecutivi e che non ci vuole far arrivare a nove ci sono troppe cose ci sono troppe cose che mi fanno pensare a che questo inter juventus sarà una partita bellissima indimenticabile non decisiva ma decisiva allo stesso tempo ne abbiamo parlato nell'ultimo video lo trovate qui sopra nelle schede non penso che sia una partita decisiva ma allo stesso tempo è una partita decisiva davvero ricorda terribilmente quel 2011 2012 con conte sulla panchina della juve con allegri sulla panchina del milan con il milan campione italia con ibrahimovic e tiago silva questa la juventus invece con cristiano ronaldo ed elite con non più allegri in panchina perché l'abbiamo già assaporato per cinque anni consecutivi ma sarri che è stato l'ultimo allenatore a metterci in difficoltà e proprio contro allegri ha rischiato di vincere lo scudetto però non con l'inter non col milan con il napoli dopo aver abbandonato allegri ecco che conte che poteva essere uno dei probabili sostituti per ritornare sulla panchina che aveva abbandonato cinque anni prima passa sulla panchina dei rivali e alla juventus arriva proprio quell'allenatore che poteva strappare lo scudetto e che quest'anno dovrà regalarlo alla juventus sembra un libro scritto dal peggior psicopatico possibile al mondo invece tutta realtà è la serie a è la serie a che stiamo vivendo quest'anno capito perché sono un po un po in ansia e vi dico anche che è un po che porta avanti questa guerra contro l'ipocrisia cioè in realtà non è una guerra contro l'ipocrisia questa crociata in cui vi dico che sono ipocrita perché mettetevi nei miei panni io devo parlare di calcio devo dare l'opinione su quello che accade no e cerco di essere sempre onesto con me stesso perché sennò tutto quello che sto facendo non avrebbe senso quindi nessuno mi dice che cosa devo dire io dico quello che sento quello che provo quello che vivo e in questo momento vivo questo in questo momento vivo questo ma quando ci fu l'ufficialità di conto all'inter fui uno dei primi forse uno dei pochi juventini a mettermi lì e dire eh ragazzi professionista è giusto che faccia così cioè non c'è niente di sì da fastidio ma questo è un professionista noi non l'abbiamo ingaggiato non è che non può andare a allenare le altre squadre e conte ha già fatto un ottimo lavoro si è già visto una mano decisiva da parte di antonio conte ok il problema è che io sono anche ipocrita perché penso questo penso quello che ho detto e lo ridirei ma in questo momento mi sto immaginando la scena di 0 a 0 al novantesimo e poi una percussione incredibile che ne so di politano che non per dirne uno di sensi dribbling slalom tra tutti i nostri difensori cross lucaco di testa 1 a 0 intero ancora peggio un calcio d'angolo in cui ho una punizione in cui non siamo ancora al 100 per cento bravi a marcare c'è l'imbucata perché abbiamo marcato a zona male l'inter ci batte 1 a 0 novantesimo antonio conte che inizia a esultare come un matto sotto la curva di san siro davanti ai tifosi della juve davanti a marotta parati cinedved marotta che tra l'altro ha cambiato sponda pure lui no quindi ad agnelli lo stesso agnelli che si narra che non ci sia mai stato tutto questo buon sangue tra conte agnelli e quindi un insieme di cose cioè forse è più la partita delle rivincite personali per quanto riguarda marotta e conte che inter juventus per noi o per i giocatori o per le dirigenze in questo momento l'inter ha delle motivazioni grosse per poter fare la partita vincere la partita e provare a vincere il campionato cosa che invece la juventus si ovvio che la juventus abbia delle motivazioni grosse però quella frase è sempre più difficile continuare a vincere che vincere basta è assolutamente vera perché gli stimoli da otto anni a questa parte la juve certo li ha messi in campo gli ha dimostrati ma non c'è mai stata quella stessa cattiveria che si è vista il primo anno di conte lì veramente c'è una cattiveria diversa una voglia di dimostrare far vedere al mondo che sì l'eventus veniva da due settimi posti consecutivi ma in realtà quei giocatori erano forti quella squadra era forte quella voglia di emergere di dire ci sono anch'io sono importante anch'io e una volta che hai vinto ovvio tutti sanno che sei campione d'italia da un anno da due anni da tre anni quando inizia ad essere da quattro cinque sei sette anni consecutivi otto anni consecutivi ecco che non c'è più il parto in sordina e cerco di arrivare diventare grande sei il grande e tutti si aspettano tanto da te e ovviamente prima o poi la juventus lo ribadisco ancora per la millesima volta perderà lo scudetto non so se sarà quest'anno non so se sarà l'anno prossimo fra due io mi auguro almeno di arrivare a dieci scudetti consecutivi siamo a otto ne bastano altri due ma stiamo parlando di roba allucinante sono e questo è un ciclo irripetibile che nei maggiori campionati europei mai si è verificato e che forse mai più si verificherà in tutta europa e magari neanche in serie a perché stiamo parlando veramente di un campionato che comunque rimane complicato difficile l'inter di conte che tra l'altro in questo momento non è neanche messa benissimo in champions e di questo mi dispiace perché speravo potessero andare più avanti possibili per perdere quelle energie che poi potrebbero tramutarsi in punti di distanza in classifica in serie a in maniera positiva ovviamente mi aspettavo quindi con la juve davanti l'inter dietro se l'inter esce dalla champions diventa un po un problema perché loro poi punteranno esclusivamente sulla serie a vedremo cosa succederà la juventus ovviamente ha due squadre per gestire questa cosa al contrario magari dell'inter e credo che abbia dei singoli anche più forti rispetto a quelli dell'inter per loro antonio conte che io conosco come un libro aperto noi abbiamo maurizio sarri che sta ancora cercando di imparare a conoscere punti di forza e debolezze ci arriveremo ovviamente ci vogliano anni ci vuole del tempo non si può improvvisare certo io sarri l'avevo visto a napoli ma è un sarri completamente diverso è un sarri che cerca più risultato quello di torino magari l'esperienza al celsi l'aver vinto un trofeo internazionale l'ha portato a pensare cose di questo tipo magari è stato imposto dalla dirigenza come magari al tempo del napoli si sapeva di essere più deboli e quindi si diceva maurizio di questo 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 quindi magari sarri non ha questa libertà che ho io che vi ho detto all'inizio dico quello che penso magari un tesserato di una squadra di alto livello di serie a non può di seguire una certa linea di pensiero io non so se dirvi purtroppo perché non guadagno quei soldi o perché non sono tesserato per un big club o per fortuna perché posso essere libero di dire quello che voglio però ho questa fortuna e voi avete questa fortuna di vedere ascoltare il mio bel faccione che dice delle minchiate niente questo è stato il riassunto perfetto di quello che è il mio interview di quello che spero che non possa accadere quindi il gol al novantesimo con risultanza di Conte perché sì assolutamente sono d'accordo che Conte possa essere la natura dell'Inter che abbia voluto provare qui e là tutto il discorso che abbiamo sempre fatto da da quest'estate ad oggi però l'ipocrisia mi viene a portare di dire che un'esultanza di Antonio Conte contro la Juve a prescindere anche che che non sia il novantesimo certo quello mi darebbe un fastidio da matti inizierei a rosicare da qui fino ai ventus inter sperando di ricambiare con sare che risulta in faccia Grazie a tutti